ecco io sono francesco fusillo del centro territoriale di supporto di verona e insieme a paolo sita saluta ciao sto dimostrando come questo webcam che comanda un mouse a soffio funziona divinamente con il nostro sodi linux tastiera virtuale e adesso paolo dimostrerà come si può scrivere con il controllo attraverso la webcam è una strumentazione che costa circa quanto paolo 1200 euro più o meno se non ricordo male viene comandata dalla da questi pallini riflettenti bollini riflettenti che in questo momento sono nove ma normalmente quando funziona normalmente dovrebbe essere uno e poi e cosa dire ancora il soffio esatto il soffio clic destro e clic sinistro che è uno scatolotto che ha un sensore pneumatico che è collegato direttamente alla diciamo a questa sorta di webcam ecco ecco e tu con questo oggetto riesci a scrivere disegnare esatto io muovendo il capo muovo il cursore che viene individuato il movimento del pallino riflettente da questa sorta di webcam a infrarossi e appunto muoendo il capo e cliccando col destra e col sinistra riesco a fare praticamente tutto quello che si può fare comunque quindi riesci anche a disegnare esatto riesco anche a disegnare questo di tutti i diciamo le webcam chiamiamoli così mouse che usano al momento di un di un redotti un di un pallino che riflette l'infrarosso è il più evoluto ed è anche più costoso ce ne sono anche di molto più economiche c'è il track er che costa intorno ai 200 euro se non ricordo male all'epoca quando comprai c'è anche un altro che si chiama se non ricordo male mouse ball o qualcosa del genere che è una via di mezzo questo è il più veloce li ho provati un po tutti e tre questo è il più veloce sul mercato e ovviamente anche più costoso però è quello che diciamo che avendo un buon movimento del capo permette anche di avere una risposta in tempo reale e precisa del cursore quindi ad esempio di poter disegnare quindi esatto se vogliamo disegnare diventa molto più comodo e funzionale ecco ecco allora riprendo la registrazione per dire che a me premeva moltissimo vedere la funzionalità della strumentazione del extreme mouse sul sodi linux e come si vede appena inserito nella usb il sistema sodi linux riconosce il mouse immediatamente non c'è neanche da fare la calibrazione ecco questo è un primo step perché stiamo testando un altro sistema mouse che manderemo prossimamente in lista che invece è open source non costa niente e usa semplicemente la webcam comunque questa è una soluzione valida assolutamente sì assolutamente sì che ha permesso a riconducibile al nomenclatore tarifario e quindi e quindi viene viene passata praticamente in toto e questo permette addirittura a paolo di fare degli ottimi disegni allora adesso chiederò a paolo di farci vedere il suo lavoro grafico che abbiamo presentato con a raw world gestendo la macchina attraverso il mouse aprirà le cartelle di raw world come vedete paolo lavora tranquillamente gestendo con il capo e soffio il clic e fa ad aprirci la cartella di raw world del nostro convegno di biel e il pdf del libro che è quello lì perfetto grazie paolo questo possa poi se vuoi parcheggiare la sì la tastiera grazie questo è il testo grafico che ha fatto paolo con la comunicazione aumentata la pecora verde quindi come si può vedere paolo è in grado tranquillamente di occuparsi di grafica e illustrare anche dei testi perché la pertinenza di funzionalità di questo mouse è del tutto come si può dire adeguata adeguata a quello che c'è da fare adesso io chiudo il video e spero di aver dimostrato che su soldi linux anche questi dispositivi possono essere tranquillamente utilizzati offrendo un sistema operativo stabile sicuro e senza senza molto veloce e con nessuna necessità di manutenzione paolo parcheggia che facciamo vedere la schermata di soldi linux 2015 perché siamo vanitosi giusto bisogna giusto francesco fusillo e paolo sita per le guide di soldi linux sull'utilizzo del mouse e extreme mouse extreme paolo sita buon lavoro e grazie e usate linux il più possibile